Nel precedente episodio di Pokémon Esplorazioni Master, Ash ha battuto Iris in una lotta valida per il torneo mondiale per l'incoronazione, raggiungendo così la classe Ultra. Nell'episodio 66 di Pokémon Esplorazioni Master, tutti i Flabebe di Go si evolvono in Floette, fatta eccezione per quello di colore bianco, il quale ha perso un petalo a suo fiore. Per questo, l'allenatore insieme ad Ash si dirige verso la regione di Kalos per aiutare il piccolo Pokémon. Dopo una lunga ricerca, sono riusciti a trovare tanti fiori, che però sono soltanto simili nell'aspetto a quello che davvero serve a Flabebe, il quale lo vediamo di notte provare a volare col suo fiorellino incompleto ma senza successo, con Go che lo aiuta a non farsi del male e promettendogli che sarebbero riusciti a sistemare tutto. Il giorno dopo, il Professor Cerasa dal suo laboratorio invia ai ragazzi la posizione di una ricercatrice esperta, che possiede tra l'altro un Florgues, evoluzione finale di Flabebe che mostra le sue abilità usando campo erboso e facendo sbocciare numerosi fiori. Nonostante ciò, sembra che quelli di colore bianco siano particolarmente difficili da reperire, ma la ricercatrice avvisa Go e Dash di sapere dove possono trovare quello che cercano, esattamente su una montagna verso la quale i ragazzi si mettono subito in marcia. Arrivati sul posto, la ricerca continua ad essere più che difficile, ma Flabebe pone l'attenzione del gruppo su alcuni fiori di colore rosa trovati nelle vicinanze. Questi fiori, dopo essere stati esposti alla luce lunare, aprono i loro petali e si riscoprono essere bianchi. Flabebe sceglie quindi uno dei tre disponibili e finalmente torna completo. E poco dopo sbuca fuori anche un secondo esemplare del Pokémon che fa la stessa identica cosa. Vedendo rimanere soltanto un fiore, Flabebe prova ad usare campo erboso, dopo averlo visto utilizzato dal Florgas della ricercatrice e finisce per evolversi in Floette, per poi utilizzare effettivamente la mossa facendo spuntare altri due fiorellini. Ricordandosi delle parole della donna, Go capisce che per Floette sarebbe meglio rimanere in zona a prendersi cura delle varie piante e per questo decide di rilasciare il suo Pokémon, con la speranza che presto possano incontrarsi nuovamente. Nel prossimo episodio di Pokémon Esplorazioni Master ci sarà qualcuno che ruberà energia elettrica ad Aranciopoli e il Pikachu di Ash verrà arrestato come colpevole del fatto. Per scoprire cosa succederà, appuntamento a sabato prossimo con il nuovo in sintesi di Pokémon Esplorazioni Master. Mario Marco Augate Luca Luca crate